Per settimana sport, il mister Ottaviani è arrivato a questa sconfitta con il volto di 87 per 2 a 1. Il vostro gol alla fine forse doveva arrivare un po' prima. Doveva arrivare prima, purtroppo siamo troppo belli a volte, arriviamo al limite dell'area, non concludiamo mai. C'è un bel fraseggio. Una partita oggi che secondo me, al di là degli episodi che non sono stati favorevoli neanche questa domenica, potevamo anche portare a casa un punto sicuramente. La partita per 60 minuti l'abbiamo giocata noi praticamente. Secondo il tempo è una metà campo, penso sia visto che si è giocata lì. Ecco, per la nuova regina come vede il futuro del campionato, il resto del campionato? È in salita, lo sapevamo dall'inizio, è una scuola giovane, quindi inevitabilmente paghi l'inesperienza. I ragazzi hanno bisogno di crescere, però gli ragazzi bisogna cominciare a fare dei punti a partire da domenica col figlio, perché altrimenti la classifica veramente è brutta. Bene, grazie mister. Comunque buona fortuna per il proseguo del campionato. E grazie da tutta settimana sport, grazie davvero. Grazie a voi.